Sì, anche solo sognare, anche solo sapere è interessante. Tenetevi informati. Tg del turismo. Tg del turismo. Tg del turismo. Anico di 6 metri e lì vengono preparati 30.000 piatti, cioè 30.000 porzioni, utilizzando 3 tonnellate di pesce azzurro fresco e poi naturalmente ci vogliono 3.000 litri di olio. C'è un'affluenza enorme, c'è poca disponibilità di parcheggio e quindi vi preghiamo non andateci in macchina, magari arrivate qui in questo bellissimo borgo del Levante Ligure in treno, possibilmente, o con i traghetti che partono da Santa Margherita, da Rapallo o addirittura dal porto antico di Genova. Ecco, la sera prima, abbiamo parlato dell'8 maggio, quindi la sera del 7 maggio, c'è la processione con la stato di San Fortunato, protettore dei pescatori, con tanto di fuochi d'artificio, falò, con la roba vecchia dei camogliesi. Insomma, è una tradizione vera e poi c'è questa padellata meravigliosa di pesce azzurro che fa bene e costa poco. Bellissimo. Poi comunque, visto che siete a Camogli, potete farvi una passeggiata proprio per vedere il golfo sul monte di Portofino. E quindi, un posto naturalmente incantevole, tutto Savassandir, stiamo parlando di posti veramente... Savassandir! Potete fare una passeggiata di quattro ore e mezzo fra Camogli, San Fruttuoso e Portofino. Li abbiamo visti tutti, quindi ve li possiamo anche fare vedere quei posti. E se invece preferite la tavola, andate da Fiorella, proprio davanti alla spiaggia. Il posto è buono, è bello e il pesto lo fa lei.